E' stato ritrovato in poco tempo dai carabinieri dopo giorni di incessanti ricerca un sedicenne tunisino ma da sempre residente a Modica e di cui la madre ne aveva denunciato l'allontanamento e è avvenuto lo scorso 30 agosto. Ricevuta quindi la denuncia di scomparsi, i militari hanno attivato immediatamente le procedure previste dal piano provinciale per le ricerche di persone scomparse predisposta alla prefettura di Ragusa, in questo modo diramando la descrizione e la fotografia della ragazza tutte le pattuglie dell'arma impiegate in servizi di controllo del territorio nell'ambito provinciale. Inoltre la segnalazione di ricerca è stata estesa anche ai comandi arma di tutta la regione Sicilia, nell'ipotesi che il minore potesse essersi recata anche fuori provincia, magari utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. Le ricerche per le quali sono state impiegate decine di militari si sono fortunatamente conclusa la scorsa sera quando il ragazzo è stato rintracciato da una pattuglia dei carabinieri a Scicli, nei pressi dell'ospedale Busacca. E' stato subito accertato che lo stesso, nonostante alcuni giorni trascorsi a girovagare senza meta, era in buone condizioni di salute, ignote al momento le cause del suo allontanamento da casa. Grazie. 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 Grazie.